fama internazionale, proprio gli Emirati Arabi Uniti hanno cercato di accreditarsi come alleato deciso degli USA nella loro lotta alle formazioni jihadiste. Era un anno fa quando il britannico Guardian annotava che l'attivismo degli Emirati in un quadro rinnovato dalla primavera araba con l'Egitto indebolito e l'Arabia Saudita sonnolenta, investimenti nella ricerca militare, aveva notato questo, ruolo attivo in Libia, presenza unica dai paesi dell'area, in Afghanistan, hanno fatto degli Emirati Arabi Uniti un soggetto attivo ai tavoli militari di tutto il globo. Di nuovo il Sibri ricorda come le spese militari del Medio Oriente siano salite il 5,2%, nel corso del 2014, alla ragguardevole cifra di 196 miliardi di dollari, cioè una cifra enorme. Gli Emirati Arabi Uniti e le altre potenze dell'area come l'Arabia Saudita hanno, sì, stretto il budget di recente, visto il calo dei corsi del greggio che compongono il grosso del loro bilancio, ma dal 2005 al 2014 restano in progressione esponenziale, cioè, sentite che cifra, il più 135%, secondi solo a quella dell'Iraq, più 286%, è ben superiore al più 57% della media dell'area. In che modo la lotta al terrorismo sia un affare interessante per le aziende del comparto è scritto anche nella relazione al bilancio 2014 di Finmeccanica, portabandiera italiana della difesa. Già in chiusura dello scorso esercizio, ad assalto del Charlie Hebdo, concluso, si registrava che la spesa per nuovi investimenti tenderà, nei prossimi anni, a crescere con un ritmo intorno al 2% annua, grazie al lancio di programmi per lo sviluppo di nuovi sistemi di armamento e allo stanziamento di fondi per operazioni contro il terrorismo organizzato internazionale, circa 40 miliardi di euro tra il 2015 e il 2017. Ecco, questo è, come dire, il boom registrato in borsa, registra che i lampi di guerra hanno già prodotto un risultato economico eccezionale e via via crescente, soprattutto nell'area medio orientale, però a questo punto non solo, perché poi tutti i paesi che fanno parte della coalizione antiterrorismo si stanno riarmando tutti. Ecco, io direi che adesso potremmo mandare la canzone di CCP, fedeli alla linea, morire, appunto in riferimento a questa fase tragica. Ferretti ci va giù e canta, la morte è insopportabile per chi non viene a vivere, la morte è insopportabile per chi non deve vivere, lode a Mishima e a Majakoski. Produci, consuma, crepa, che urlato al microfono in faccia di un pubblico pagante negli anni Ottanta, naturalmente faceva certamente il suo scalpore. Mandiamo i CCP. I CCP Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu devi scomparire anche se non ne hai voglia e puoi contare solo su te. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.